Provate a immaginare un film horror in cui il diavolo in persona si rivolge al pubblico e introduce la storia. Ebbene sì, succede anche questo. 1974, film Chi sei? Film horror che è fortemente debitore dell'esorcista, ma soprattutto di Rosemary's Baby di Polanski. Film italiano, naturalmente, diretto da Ovidio Assonitis, produttore geniaccio assoluto che qui si lancia per la prima volta come regista e viene affiancato dal direttore della fotografia Roberto De Torre Piazzoli. I due, in coppia, dirigono il film sotto pseudonimo. Ovidio Assonitis diventa Oliver Hellman e Roberto De Torre Piazzoli diventa Robert Barrett. In realtà l'origine di questi nomi nasce dalla fusione del nome di Oliver Barrett, che era il protagonista principale del romanzo Love Story. E nel film c'è una bambina, figlia dei protagonisti, che gira tutto il giorno, si porta sempre dietro una dozzina di copie di Love Story, che legge continuamente, ne legge una pagina, poi lo mette da parte, e poi ne comprende un'altra copia, ne legge un'altra pagina, poi la mette da parte. Una cosa un po' particolare. Partiamo dall'inizio. Abbiamo detto l'esorcista, Rosemary's Baby e il diavolo. Il diavolo protagonista principale. Il film parte con un prologo, dove assistiamo a una sorta di messa nera, dove c'è una donna, che sta per essere posseduta dal demonio che vuole prendere forma attraverso lei, quindi generare l'anticristo. Ma un occultista, un satanista, insomma, uno di questa setta, che è stato anche amante della donna, la fa fuggire, la salva. Quindi il diavolo non ottiene ciò che voleva. Di conseguenza si vendica. Quando l'uomo sta guidando la sua macchina su una strada piena di curve a strapiombo sul mare, lo fa andare fuori strada e lo fa precipitare nel dirupo. Mentre l'auto sta precipitando, il diavolo gli propone un patto e ferma il tempo con la macchina che sta precipitando nella scarpata. E sta per finire in acqua. Gli propone un patto. Gli concede dieci anni di vita, concedendogli la possibilità di tornare e di andare nel futuro, rincontrare quella donna che lui gli aveva sottratto e far nascere il figlio che lei dovrà generare. Quindi ciò che doveva accadere dovrebbe teoricamente accadere con dieci anni di ritardo. Però con l'aiuto di questo personaggio che si chiama Dimitri. Un fantastico Richard Johnson strepitoso. E da qui parte il film. Siamo proiettati dieci anni avanti. Siamo a San Francisco. C'è una coppia, Juliet Mills e Gabriele Lavia. Gabriele Lavia, attore culto che poi nell'horror diventerà una piccola icona, visti i film che ha interpretato. Hanno due figli. Lui è un discografico di successo. Hanno due figli. Un maschio e una femmina. Un maschietto di 3-4 anni. La sorellina di un paio d'anni più grande. Insomma, bambini un po' particolari. Dicono parolacce. Sono inquieti. Sono nervosi. E si scopre a un certo punto che la donna è incinta del terzo figlio. Però prende regolarmente la pillola. Quindi c'è qualcosa che non va. E oltretutto lo sviluppo del feto avviene a una velocità molto rapida. Quindi lei crede di essere incinta di 4 settimane, ma in realtà è già incinta di 4 mesi. E si va avanti così, con il feto che cresce velocemente, con la donna che comincia a dare segni di squilibrio, di alterazione psicologica. I dottori studiano il caso. Non si sa che soluzione trovare. Ed improvvisamente compare questo personaggio Dimitri, questo occultista che torna dal passato. E comincia a pedinare Robert, che sarebbe il marito di Jessica, Gabriele Lavia. A un certo punto i due si incontrano e lui gli dice che solo lui può salvare Jessica. Il suo compito, in sostanza, è quello di far nascere il figlio del diavolo. Però cerca di accattivarsi la fiducia del marito di lei, dicendole che solo lui può salvarla. Lui è al corrente di cose che loro non sanno. Gli dice delle cose che teoricamente non poteva sapere sul loro rapporto. Va a casa sua. La donna lo vuole, lo chiama. E insomma, alla fine lui si esce a cattivarsi la fiducia del marito. Col parere contrario dei medici che invece vorrebbero farla ricoverare in ospedale. Ma lui non vuole che la donna vada via di casa. E quindi da qui cominciano poi una serie di situazioni in stile l'esorcista. Il vomito verde, la testa che gira su se stessa. Il fluttuare nella camera. Tutti effetti che poi si sono visti anche nel film di Fredkin. Ma se vogliamo ritenere le chi sei, una scopiazzatura dell'esorcista, sbagliamo. Perché in realtà a Sonny si avrebbe voluto fare un film tipo l'esorcista. Però non avendo potuto comprare i diritti del libro, che erano già stati acquisiti dalla Warner, che aveva già fatto il primo film, lui ne ha fatto una sua versione totalmente differente. Non c'è esorcismo, non ci sono preti, non ci sono rimandi alla religione cattolica. Quindi è un film estremamente laico, parla di possessione demoniaca, ma il cattolicesimo viene completamente tirato fuori. Quindi è più vicino al Rosemary's Baby che all'esorcista di Fredkin. Forse l'unico riferimento al cattolicesimo è dato dal dottore Nino Segurini, che ha delle pasticche, delle caramelle, in una piccola scatoletta, e lui quando le tira fuori le mette sul tavolino e forma sempre una croce. Forse questo è l'unico rimando alla religione cattolica, perché per il resto non c'entra niente l'esorcismo, non ci sono i preti, come abbiamo detto, quindi è completamente diversa la storia. Insomma, alla fine Dimitri, sobbillato dal diavolo, che continua sempre a parlare fuori campo, quindi sentiamo sempre la voce del diavolo, la sentiamo all'inizio nel prologo, quando stipula il patto con Dimitri, e la sentiamo anche nel corso della storia, quando appunto interloquisce, interagisce con Dimitri, e in alcuni punti la sua voce viene distorta, la voce di Dimitri non è comprensibile, la voce si abbassa, poi si alza, sono tutti effetti che a Sony ci si ha creato per creare un po' di disagio nel pubblico. Comunque, a parte questi mezzucci, il film è pieno di trovate, di intuizioni geniali, ci sono scene montate due o tre volte da prospettive differenti, è pieno di simbolismi, è pieno di enigmi disseminati qua e là, che poi alla fine vanno al loro posto. Per esempio abbiamo il figlio della coppia Lavia Mills, il piccolo David Conning Jr., che curiosamente vedremo anche tre anni dopo, 74-77, tre anni dopo anche in Shock di Mario Bava. Dicevo, il bambino si porta sempre dietro una scatola nera con un fiocco giallo. Alla fine del film scopriremo questa scatola, cosa contiene. Film assolutamente eccezionale, io amo molto il genere horror, confesso, e questo è un film che ho visto da bambino, perché ho avuto la fortuna di vivere il periodo delle selvaggie tv private di fine anni 70 e prima anni 80, trasmettevano film di ogni tipo, e quindi questo l'ho visto già quando ero bambino. Poi l'ho recuperato in videocassetta, VHS AVO Film, e poi sul fine degli anni 90, primi anni 2000, ci fu la benemerita Scendene Moizzi, che gli appassionati di cinema italiano ben ricorderanno, benemerita, fece uscire in edicola una serie di collane di videocassette di VHS a tema. Mi ricordo la prima fu dedicata a Giordamato, poi ci fu il western, il poliziesco, la commedia, il giallo, l'horror, eccetera, e in particolare per l'horror ci furono due collane, una di queste era la collana demoni e streghe, e qui abbiamo la videocassetta di Chi Sei, bellissima, questi sono ricordi fantastici. Poi, successivamente è uscito anche il DVD, eccolo qua, il DVD di Chi Sei, tra l'altro molto carino, molto carina l'idea della Cinecalt, c'è Chigori di fare la copertina reversibile, una cosa che a me piace tantissimo, perché da un lato abbiamo la cover originale, che è quella che ho utilizzato io, ma dall'altro è così che si presenta nei negozi, insomma, quando lo si va ad acquistare, c'è questa copertina qua, ma poi girandola esce dalla guandina originale, che sicuramente per me è molto più affascinante. Master, insomma, così così si può fare molto meglio. Però, vabbè. So che all'estero è uscito anche il Blu-ray, ma non ha l'audio italiano, e qui casca l'asino. Il film è girato a San Francisco, è tutto girato in inglese, poi dopo è stato doppiato in italiano. Sì, ragazzi, ma se il film non ha l'audio italiano, niente, mi dispiace. Adesso che c'è il di Blu-ray, però fatto tra l'altro dall'Arrow, etichetta inglese che ormai è specializzata nel recupero di fiscine metaliano di genere da tanti anni, abbiamo la speranza che qualcuno si svegli, prenda questo bel master che ormai c'è, ci metta l'audio italiano e faccia uscire magari una bella edizione italiana che non ci dispiacerebbe affatto. Il film è corredato dalle fantastiche musiche di Franco Michalizzi, un genio assoluto, c'è un brano soul che sui titoli di testa che è Bargain with Devil, ovvero patto col diavolo, con questo Dimitri che è un personaggio straordinario, disperatamente attaccato alla vita, che cerca di sopravvivere, cerca di aiutare il diavolo a compiere ciò che gli ha chiesto, quindi è uno strumento del male, però allo stesso tempo è tormentato, vorrebbe salvare la donna di cui è stato innamorato dieci anni prima. È una storia, insomma, un personaggio molto controverso, ma Richard Johnson lo rende in maniera spettacolare, bellissimo, veramente forse il personaggio più bello del film è proprio Dimitri. Infatti non è caso ci sono dei temi musicali scritti da Michalizzi proprio dedicati a Dimitri, ogni volta che compare Dimitri in scena parte un tema di Michalizzi particolare, musica che spazia dal soul al funky, una cosa ragazzi, fantastico, film bellissimo, ripeto, pieno di trovate geniali, di invenzioni, di trucchi, sì, va bene, esorcista, cose già viste, tutto quello che volete, ma per me rimane il miglior horror demoniaco italiano, superiore sicuramente all'anticristo di De Martino, anche a Holocaust 2000, sempre De Martino, ottimi film per carità, ma Chi Sei è una spanna sopra, assolutamente, quindi assolutamente consigliato, sia per chi ha visto l'esorcista, sia per chi non l'ha mai visto, ma sono pochi quelli che non hanno visto l'esorcista, quindi chi si troverà a sghignazzare pensando ah ah ha copiato, non vi fate ingannare, perché Chi Sei è assolutamente originale, e dall'esorcista ha preso solo qualche piccolo spunto, ma non, la storia è totalmente differente, ed è un film che sicuramente sta in posizioni molto alte, in un'ideale classifica di horror italiani di tutti i tempi, sta sicuramente nei piani alti, assolutamente, da vedere, da vedere, da vedere, e come dice il diavolo, uno strepitoso Sergio Graziani, intanto scandisco il tempo.